Ed eccoci nuovamente in studio per aver ascoltato questa bellissima canzone scritta da Marella Nava che abbiamo avuto prima in diretta e sembra come doveroso omaggio a questa bellissima canzone, questo messaggio che è stato poi si è tramandato e si è scritto a lettere indelebili nella storia della musica italiana, una canzone che poi arrivò a seconda nel 91 con cantata e interpretata da Renato Zero e Grace Jones. Bene, a questo punto noi andiamo avanti con le nostre interviste, i nostri personaggi che hanno partecipato o che hanno scritto pagine importanti del festival, tra cui un personaggio che ormai qui è un grande amico di Radio Roma, un grande amico mio personale, una persona che stimo moltissimo personalmente, ma stimato tantissimo da tutti anche i critici musicali e che ha portato a Sanremo una bellissima canzone appunto nel 2004 in cui ricordo era l'unico romano appunto a partecipare al festival quell'anno. Sto parlando di Tommaso Zanella in arte Piotta, ciao Tommaso e benvenuto a Radio Roma. Ciao, come state? Siamo abbastanza bene, stiamo portando avanti questa maratona di Sanremo, su Sanremo questa sera, con collegamenti anche dal teatro Alistone e abbiamo sentito insomma quelle che sono le critiche, abbiamo ascoltato diversi già personaggi che hanno fatto un po' la storia come Maria Danava, Miranda Martino, Romina Falconi che ieri sera ha partecipato tra i giovani, lei è anche romana, lei è anche romana, tra l'altro diciamo che tu partecipasti nel 2004 con una canzone, L'altro di te, cosa ti è rimasto di quell'esperienza Tommaso? Mi è rimasto un bellissimo ricordo, un anno che mi è piaciuto particolarmente perché l'unico che organizzò Tony Renis, che devo dire che fu un po' attaccato da tutte le parti ma erano indubbiamente attacchi politici, calcolando anche insomma il fatto di chi era all'epoca al governo e chi ha l'opposizione e in realtà invece fu uno dei festival davvero dove c'era spazio per la musica, dove i giovani furono trattati con i guanti, nel senso che ci fu un'unica categoria, big e giovani insieme, con gli stessi passaggi televisivi, gli stessi minuti per poter far sentire le proprie qualità vocali e musicali e lo stesso spazio promozionale, infatti sono nomi come quello di Linda che recentemente ha fatto anche il programma di Massimo Lanieri che tuttora tra i giovani sono quelli che poi negli anni sono rimasti di più e quindi ho un bel ricordo anche perché andai con una canzone diversa da quelle che avevo fatto prima, ma comunque non si arremese, c'è un pezzo di pop al 100% che quindi ben rappresentava quello che è poi il mio background, la mia cultura musicale. Certo, tu sei un po' ormai diventato il re dell'hip hop effettivamente, tra l'altro sapessi... Beh, per fortuna che insomma ce n'è più di uno, un periodo sono stato l'unico re dell'hip hop italiano, adesso ci sono tanti principi e arriveremo poi alla Repubblica, che è la cosa migliore, l'importante è che ci sia diversità, poi ognuno ha i suoi gusti, io amo un tipo di hip hop comunque all'italiana, con dei contenuti di società, costume e politica che siano davvero italiani, non mi piace andare a copiare negli atteggiamenti persone lontano da me, anni luce e milioni di chilometri, cioè persone che vivono in tutt'altro i contesti, tipo il Bronx in America, di andare a fare un po' che ne so, il nero della situazione con un po' gangster, cioè sono un ragazzo di Roma con una storia uguale a tanti altri, con un ottimo spirito d'osservazione e tanta voglia di raccontare le mie emozioni e il mondo che mi circonda. Bene, tra l'altro questa è una cosa molto importante, come hai visto i giovani quest'anno Tommaso? Guardi, ho visto molto bene la puntata di ieri e l'altro ieri, ti posso parlare di quelle, perché per esempio in questo momento canterò tra un po' qui a Sulmone in Abruzzo, per cui non riesco proprio a seguire minimamente questa sera, anche se la fa di fuori. Tu so che hai seguito appunto soprattutto i giovani, tra l'altro diciamo che c'è stato questo ragazzo che ha vinto tra l'altro con una canzone molto bella appunto su Borsellino, che tra l'altro era dato ormai come favorito, ma non sulla carta soltanto, ma effettivamente è stato questo Fabrizio Moro appunto una certezza proprio dall'inizio, ha vinto con un margine incredibile, perciò ha dato, ha lasciato un messaggio vincente rispetto agli altri, appunto prima abbiamo ascoltato appunto il manager del Secondo, che era pur docent'uomo classificato, e ha detto che proprio, ecco c'era moltissima, c'era poca rivalità, c'era grande armonia e grande riconoscimento appunto di quello, non ci sono state lamentele, ecco appunto nessuno ha avuto modo di lamentarsi appunto su quella che è stata la classifica finale dei giovani. Questa forse è una cosa molto importante, forse è un passo anche verso una certa maturità al Festival di Sanremo, dopo 57 anni forse era ora, eh? Ma sai che c'è? Che c'erano parecchie canzoni, tutte di discreta fattura, però quella che veramente aveva una marcia in più, non solo per i contenuti naturalmente, ma anche proprio a livello di canzone, cioè nel senso quindi con un ritornello, con una costruzione, con un arrangiamento, nella sua poi semplicità e immediatezza era proprio quella di Fabrizio Moro, per cui credo che sia meritato. Non era male anche la seconda, forse magari comunque si poteva dividere il premio della critica, il primo premio e accontentare più due giovani sperando di dare più opportunità a più persone, ma cambia un po' poco, sicuramente poi nel tempo penso alla canzone dei giovani che può rimanere, sicuramente quella di Fabrizio Moro. Comunque è stato un po' l'anno dei romani questo a Sanremo, eh? Beh, Romino l'ho sentita comunque, tecnicamente è molto dotata e ancora insomma molto giovane, per cui avrà tempo per crescere. Come tutte le donne avrà il problema di trovare degli autori, per cui diciamo le... Tra l'altro l'ha firmata anche lei la canzone quest'anno. Ecco, infatti, volevo invitarla, infatti, piuttosto che aspettare autori a cominciare a scrivere. Sì, sì, l'abbiamo avuta prima in diretta, abbiamo avuto questa diretta con lei prima e appunto ci spiegava, tra l'altro è emozionatissima, ma molto soddisfatta appunto del festival, della sua esibizione, una bellissima canzone tra l'altro molto profonda anche nell'esprimere appunto, quelle sono le sensazioni. E tra l'altro è stata firmata anche da lei stessa insieme ai suoi migliori amici, insomma, è una bellissima esperienza. E quello è positivo, raccomando anche appunto... Tornando invece al 2004, tu parlavi prima di un anno stupendo e tutto quanto, io mi sembra tra l'altro di... vorrei sottolineare anche un fatto, che quello è stato l'anno in cui le etichette indipendenti a Sanremo forse hanno avuto uno spazio maggiore rispetto al solito. Assolutamente sì, diciamo che praticamente erano quasi tutte indipendenti le etichette, a parte alcuni artisti, tipo Neffo, Dige Francesco, che erano stati presentati dai rispettivi manager, mentre poi facciamo parte di multinazionali...